Nuovo forte scossone sul governo regionale, in particolar modo sul presidente della regione Rosario Crocetta. Questa volta a far tremare Palazzo d'Orleans un'intercettazione pubblicata sul settimanale L'Espresso in edicola su una conversazione tra il governatore e il suo medico personale, nonché primario di Villa Sofia, Matteo Tutino, arrestato le giorni scorsi per truffe e peculato. Secondo quanto pubblicato dall'Espresso, il medico parlando con Crocetta avrebbe detto che Lucia Borsellino va fatta fuori, come suo padre, ovvero come Paolo Borsellino, il giudice assassinato il 19 luglio del 1992. Il governatore, secondo il settimanale, non avrebbe avuto nessun tipo di reazione, ma avrebbe ascoltato e taciuto. Non si fa attendere la replica dello stesso Crocetta, che nel frattempo si è autosospeso, il quale dice che non ho mai sentito quella frase che si sente nelle intercettazioni del dottor Tutino, altrimenti la mia reazione sarebbe stata tremenda. Tanto è vero che dalle presenti intercettazioni non si evince un mio commento, proprio perché non ho sentito quella frase. Questo non significa che non l'ha detta, ma se l'avessi sentita avrei avuto una reazione assurda. Sono sbigottito di questa frase. Quelle intercettazioni tra il medico di Crocetta e lo stesso presidente in cui Tutino dice che bisognerebbe far fuori mia nipote Lucia sono semplicemente gravissime, incredibili e vergognose. Questo è il commento di Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso dalla mafia. Lui non dice che bisogna farla fuori dall'assessorato, ma che bisogna farla fuori come suo padre, dice Salvatore Borsellino. E siccome mi risulta che suo padre è stato ucciso in maniera particolare, è gravissimo. E non perché l'abbia detto Tutino, ma perché il presidente Crocetta non l'ha mai reso noto, ne ha estromesso Tutino dal suo entourage. Io chiederò conto a Crocetta di questo. Quando viene a sapere che Crocetta sostiene di non aver mai sentito quella frase e replica, vuol dire che è stato colpito da una sordità improvvisa e temporanea. Fare fuori Lucia come suo padre significa solo una cosa, dice. E trovo assurdo che Crocetta non ne abbia tratto le necessarie conseguenze. Gliene chiederò conto. Intanto il mio assessore regionale alla salute in Sicilia, Baldo Gucciardi, ha dichiarato che pur nell'assoluto rispetto delle indagini dell'autorità giudiziaria è di tutta evidenza che le parole pronunciate dal dottor Tutino e riportate da organi di stampa lo rendono tra l'altro incompatibile con qualsiasi rapporto giuridico e professionale con un'azienda sanitaria pubblica. Il direttore generale dell'azienda Villa Sofia Cervello svolga le tempestive verifiche del caso e ponga immediatamente in essere i provvedimenti conseguenziali. Intanto non c'è dubbio. C'è stata un'azione di dossieraggio conto di me. Mi hanno distrutto, ucciso, perché è questo che volevano. Farmi fuori, eliminarmi. Ci stavano riuscendo ma tutto sta diventando chiaro e lo diventerà ancora di più. In un'intervista a Repubblica il governatore della Sicilia Crocetta parla di quella che definisce la giornata più difficile. Iniziata ieri con le anticipazioni sulla presunta intercettazione con il suo medico Tutino che apostrofa in maniera pesante l'ex assessore Lucia Borsellino. Alla domanda se abbia chiamato la Borsellino in queste ore, Crocetta risponde no, ma perché la devo chiamare? L'ho sempre difesa quando è stata al mio fianco in giunta e sempre la difenderò. In una intervista a Il Fatto Crocetta si sfoga ancora. Volevano ammazzarmi, cucirmi addosso il cappotto dell'indegno, liquidarmi politicamente. Forse ci sono riusciti. Il motivo? La mafia. Posso dare le dimissioni anche lunedì. L'unica cosa per me insopportabile è il fango con cui mi stanno sporcando. Grazie. 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 Grazie.